E allora quando i minuti sono 11, fuori Tiago Motta e dentro Mario, quindi questa è la prima mossa fuori Tiago, quindi andremo con un 4-2-3-1 e a sinistra probabilmente Santon per Materazzi, vediamo, no Cordoba, Cordoba, fuori Cordoba, dentro Santon, Inter che accelera immediatamente, cerca di andare a Releone, gioco di gambe, guadagna al fondo, finta, controfinta, il suo cross, corner, forza ragazzi Parte il Cucciu, palla dentro, attenzione alla mischia, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, Mario, Mario, 1-1 Gol di Balotelli che entra e la mette, gol di Mario che entra e la mette Lo rivediamo, lo guardiamo, questa palla, guardate Lucio come è trattenuto questo rigore, Mario controlla dentro l'aria e la mette in buca E Inter che va al gol dell'1-1 al minuto 13, forza ragazzi, adesso non fermiamoci, manteniamo questo atteggiamento Bravissimo Mario, con questa rasoiata, spalla la porta